Il segreto, Camila, Hernando e Beatriz lasciano Puente Viejo. Anticipazioni episodi spagnoli Il segreto di Puente Viejo, addio ai protagonisti principali. L'attuale stagione del segreto, Los Mantianales, sta per volgere al termine, tra qualche mese infatti, diremo addio ai protagonisti principali e impareremo a conoscere altri volti, che daranno il via a trame ancora più coinvolgenti ed intricate. Nelle nostre precedenti anticipazioni del segreto abbiamo già parlato di tre di essi, Aquilino, il pericoloso interesse amoroso di Beatriz, Venancia, colei che distruggerà le vite di Candela e Severo, e Giulietta, la nuova Peppa pronta a scontrarsi con Francisca Montenegro. Ma che fine faranno Beatriz, Hernando e Camila? Il segreto anticipazioni Il dramma di Hernando Aquilino, una delle incoglietanti Noentride e il segreto, è un lupo travestito da agnello. Proponendo a Boscasas la gestione dell'azienda invitanti investimenti, non farà altro che portarlo alla rovina. L'uomo sarà sommerso dai debiti e dagli strozzini, mettendo in pericolo tutta la sua famiglia. Intanto, Giulietta deve fare i conti con il dolore immenso per la perdita della figlia Anita e per la storia d'amore con Saul, naufragata per colpa di Francisca. Come raccontano le anticipazioni del segreto, Hernando non si darà per vinto e cercherà una soluzione ai suoi quai, proprio quando meno se lo aspetta, ecco arrivare una proposta lavorativa dalla lontana Cecco-Slovacchia. Il segreto, addio dos Casas, le nuove anticipazioni spagnole della sua popera Hernando sarà talmente in ristrettezza economica, che non riuscirà nemmeno a pagarsi il biglietto per la Cecco-Slovacchia. A pagarglielo ci penserà Nicholas, ormai consapevole, che il suo amore per Camila non è ricambiato, la partenza del dos Casas si rivelerà proficua, in quanto in terra straniera firmerà il contratto, che gli permetterà di rimettersi in piedi dal punto di vista economico. Ai dos Casas non resta che salutare gli amici più cari, in primis il fidato confidente Don Anselli. Con la morte nel cuore, anche Beatriz dovrà salutare Matthias che, sebbene sposato con Marcella, non ha mai smesso di amare. La giovane dos Casas prometterà al giovane di tornare a Puente Viejo per partire in un secondo momento insieme, senza ricevere per, alcuna risposta dal Castaneda. Ormai i giochi sono fatti, l'autobus è in partenza e ai dos Casas non rimane che voltarsi verso Puente Viejo con un ultimo, malinconico sguardo. Li rivedremo mai, non dimenticate di selezionare il tasto iscritto. Grazie. 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 Grazie.